ragazzi provo a pushare voglio andare dentro la casa però qualcuno mi deve coprire o mandare una bomba fumotina no no c'è uno dietro la bomba dietro la bomba proprio dove l'ho lasciata bello bravo come cazzo sotto con il prossimo round dovete fare di meglio avete già una cinquattro a me se c'è cazzo in versione parti cerca i distruggi sono dato risorse identificate devono restare intatte ok guarda ti faccio vedere vai ho dimostrato tante volte dentro baralto ma che cazzo è baralto baralto meno di un minuto bravi 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 mi voglio così anche nel prossimo round quello che ti ha ammazzato a te l'ho continuato a sparargli tutti hitmarkeddy a me tutti hitmarkeddy prima non l'ho preso prima non l'ho preso cerca i distruggi io lasciare la bomba recuperate la bomba e uscite i bersagli si avete la bomba portatela al bersaglio no ragazzi l'ho barcolato mi ha pushato no mi aspettava così me la fa ancora l'hai dietro l'ha fatto lo stesso giro nostro l'hai qui sotto è andato da dietro sicuro che ce n'è uno sopra l'erlo meno di un minuto vai a guardarti shalmy si vabbè farò un mirale l'ho preso 30 secondi il corpo è scaduto muoversi avvicinatevi un pochino bomba in campo attaccate sotto gli armi ce l'hai qui dietro 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 l'erlo piazziamo la bomba controllate l'area la bomba è stata piazzata era in casa una fermate il tempo bomba neutralizzata round perso ma non siamo ancora morti signori e perchè bisogna qualcuno se mi può sparare quella della finestra della casa di fronte alla bomba perchè quella se ne ho provato fa il giro no io ho fatto il giro facevo il giro da sotto cerca e distruggi risorse individuate vanno difese a ogni costo da me da me bomba da me bomba da me ragazzi balla bravi siamo sulla strada che sta avanti così ci vuole massacrato in versione parti cerca e distruggi quindi provo a girare a sinistra veloce a sto giro a dario il rig flag dell'associazione bersagli identificali obbligatevi a prendere la bomba avete la bomba portatela al bersaglio a vieni in alto io ci sono dai uno alto uno alto mi ha fatto in alto 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 rovine no dottor meno di un minuto erano tutti noi infatti abbiamo la bomba in alto 30 secondi tempo scaduto muoversi piazziamo la bomba teneteli alla larga la bomba è stata piazzata ora ora non non il l'arca l'arca ora l'arca 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 o ma tra la bomba la bomba se la passano male, mandiamoli a casa inversione parti cerca i distruggi risorse identificate, devono restare intatte meno di un minuto fai un altro giro bravo eccolo eccolo ragazzi in testa fa troppo male inversione parti cerca i distruggi recuperate la bomba e commite i bersagli avete la bomba portatela a pensare c'è sempre qualcuno piazziamo la bomba controllate l'aria la bomba è stata piazzata non muore in fondo in fondo non mi rovi il round è nostro pronti al prossimo tu stavi guardando la mia Shelby inversione parti gli ho fatto fare un caricatore cerca i distruggi risorse identificate devono restare intatte qui questo vito dove cazzo era passato meno di un minuto che massacrato di facevo la mossa finale cerca i distruggi recuperate la bomba e cogite i bersagli avete la bomba portatela al bersaglio teneteli alla larga attacco aggrappolo alleato in arrivo bravissimo bellissima vola 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 bellissima bellissima